Dove il 4-0 rifilato dall'Avellino, il Crotone ha confermato la piena fiducia a Mister Longo. La panchina rosso-blu era già cosciente prima della sfida con i Lupi. Gomez e compagna avevano infatti collezionato solo 7 punti in altrettante partite. Il K.O. contro i Biancoverdi è stato il terzo rimediato nelle ultime 4 gare, nel mezzo il Parigi a Potenza. Il dato che più spaventa i tifosi sono però i gol subiti. Il Crotone è di fatti la peggior difesa del campionato assieme alla Juventus Next Gen. 18 i gol subiti, 14 nelle ultime 4 partite. Il Trapani ha invece perso un tassello della propria rosa. Valerio Mastrantonio, arrivato in estate dal Cittadella, ha riscisso il proprio contratto con i Granata, interrompendo il suo rapporto con la società. Alla base della decisione del centrocampista ci sono problemi personali che lo hanno convinto a riavvicinarsi a casa. Il presidente Valerio Antonini ha compreso l'importanza della richiesta del calciatore, dando l'ok alla risoluzione del contratto. Mastrantonio in questo avvio di campionato era sceso in campo in 6 occasioni, 5 in campionato e 1 in Coppa Italia, con 2 presenze da titolare. Risoluzione consensuale anche con Alfio Torrisi. L'ex mister che aveva riportato i Granata tra i professionisti era stato esonerato dopo la sconfitta a Casalinga contro il Picerno per 3-0. Per Torrisi adesso diverse opportunità alla finestra, con molte squadre di D che lo corteggiano. Il Monopoli piazza infine un colpo tra gli svincolati. Il DS Chiricalo ha chiuso l'accordo con il centrocampista Marcello Falzerano. Alle spalle una carriera lunghissima, con squadre come Perugia, Venezia, Salernitana, Avellino e Benevento, giusto per citarne alcune. Vanta 200 presenze in Serie B e nella scorsa stagione ha militato nell'Ascoli, mettendo a referto 34 presenze, 2 golle e 1 assist.